A tutti buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione che oggi inauguriamo con la cronaca una grossa e importante operazione di polizia ha interessato la città vecchia di Taranto e ha preso il nome di operazione Serafico dal nome dell'edicolo in cui dimorava la famiglia in questione. Alle prime ore di questa mattina gli agenti della squadra mobile di Taranto in collaborazione con gli equipaggi dei reparti prevenzione crimine di Bari e Lecce e anche alle unità cinofile di Bari hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione finalizzata allo spaccio di droga. I 13 sono Giacomo Castiglione Donato Liuzzi, Salvatore D'Andrea, Roberto Scarcia, Luciano e Francesco Nuccio, Alessandra Simonetti, Giuseppe Nuccio, Barbara Sperti, Vittorio Colonna, Gaetano Castiglione, Michelina Seprano, Silvana Sale. Le indagini, cominciate nello scorso mese di maggio, hanno messo in luce la gestione da parte della famiglia Tarantina Castiglione-Seprano di una attività di spaccio di cocaina ed hashish nel quartiere della città vecchia e in particolare in Vicolo Serafico dove abitava la famiglia. L'attività investigativa si è basata esclusivamente su numerosissime servizi di appostazione e di osservazione documentati attraverso filmati, congiuntamente ad alcuni riscontri in particolare sugli acquirenti dello stupefacente e ad alcuni sequestri di droga che l'organizzazione celava in alcuni specifici punti, anfratti di mura, cespugli di erba e bidoni dell'immondizia. Si è potuto documentare oltre un centinaio di cessioni di stupefacenti al giorno. Nell'ambito dell'organizzazione, un ruolo apicale rivestito Giacomo Castiglione, capo dell'organizzazione, a cui vari aderenti consegnavano il denaro che derivava direttamente dallo spaccio. Varie, come documentavano le immagini che avete poc'anzi visto, appunto le immagini ritraenti la condotta del gruppo, così come un ruolo apicale ha avuto anche la madre del Castiglione, parliamo di Michelina Seprano, dedita al conteggio del denaro che proveniva direttamente dallo spaccio, ma anche alla cessione diretta dello stupefacente. Particolarmente attivo si è dimostrato il fratello di Giacomo Castiglione, Gaetano, impegnato in una intensa attività di spaccio. E un ruolo di rilievo hanno avuto le tre donne arrestate, la moglie del Castiglione, Alessandra Simonetti, la compagna di Gaetano Castiglione, Silvana Sale e la compagna del fratello defunto di Michelina Seprano, e cioè Barbara Sperti. In particolare la Seprano e la Sperti si sono dimostrate particolarmente operose nella cessione della droga, quando gli uomini dormivano oppure erano fuori casa. Uno degli appartenenti all'organizzazione, Luciano Nuccio, risultava anche agli arresti domiciliari, ma la misura cautelare non lo ha per nulla frenato, nella frenetica attività di spaccio. Dunque una grossa operazione antidroga da parte della squadra mobile di Taranto, in collaborazione con le polizie di Bari e Lecce, in particolare la sezione anticrimine, prevenzione del crimine di Bari e Lecce per l'operazione Serafico. Cambiamo argomento, ma rimaniamo nell'ambito della cronaca, seppur diversa per quanto riguarda la dinamica. Parliamo di una donna che è scomparsa da una comunità di Cisternino e che vi facciamo vedere in foto, anche per tentare di avere particolari sulla sua presenza magari ancora nel nostro territorio e quindi di chiamare dei numeri particolari, il 112 principalmente, ma anche altri numeri che vi daremo tra qualche istante. Diciamo subito che il 2 dicembre scorso, dei giorni fa, dunque a mezzogiorno, Natascia Molendini, che vedete nella foto, è del 1980, si è volontariamente allontanata dalla comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica, cooperativa verde ed intorni di Cisternino, dove era ricoverata e sparita in pratica da mezzogiorno dell'altro giorno per una località ignota. Vediamo i particolari che potrebbero aiutare anche ad individuarla. La donna è di corporatura esile, alta circa un metro e sessanta, carnagione chiara, capelli lisci di colore castano. La pelle del viso con presenza di acne è un particolare che potrebbe ulteriormente aiutare l'identificazione. Al momento dell'allontanamento indossava un giubbotto di colore rosso, una felpa di colore grigio, con cappuccio, pantaloni, ginze e scarpe da ginnastica. Chiaramente sono in corso le ricerche da parte di carabinieri, vigili del fuoco, in particolare la compagnia carabinieri di Fasano ha costituito un punto operativo di coordinamento e interforze. Chiunque abbia notato la presenza di questa donna, vedete ancora la fotografia che la lasciamo per qualche altro istante, diciamo subito che la foto risale al 2005, ma bene o male la fisionomia è la stessa che vedete in questa foto. Dunque chi abbia notato la presenza della donna in qualche luogo del nostro territorio può chiamare al 112 oppure allo 080 43 86 600 o allo 0831 47 6 mila. Ritorniamo alla cronaca i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di San Vito de Normanni nell'ambito del contrasto al fenomeno dell'uso e spaccio di droga. Hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne Alberto Lamarina ed una 33enne Raffaela Marti, entrambi di San Michele e Salentino e sono stati arrestati per detenzione spaccio di stupefacenti. I due in seguito ad una perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 148 grammi di marijuana che è stata sequestrata. I due dopo le formalità di diritto sono stati associati rispettivamente alla casa circondariale di Brindisi la Marina, alla casa circondariale di Lecce la Raffaela Marti. E veniamo ora alla politica. Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, ieri era a Brindisi per sostenere la lista Renzi nella imminente consultazione per le primarie del PD. Un'occasione per discutere anche delle ultime vicende che hanno interessato il sindaco di Brindisi. Vediamo il servizio. Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, ieri a Brindisi per sostenere la lista Renzi ha rilasciato dichiarazioni importanti sulle ultime vicende giudiziarie che hanno interessato il sindaco di Brindisi, Mimmo Gonzales. Emiliano è stato chiaro, voleva le sue dimissioni, lo ha fatto capire più volte. Ieri, incalzato dalle domande dei giornalisti, sono sulla stessa linea di Elefante, avrebbe sottolineato più volte. Il partito era disponibile a sacrificare l'amministrazione, ma siccome l'investitura viene dal popolo, doveva essere il primo cittadino a decidere se lasciare l'incarico, avrebbe poi aggiunto Emiliano. Il PD dunque non aveva chiesto l'autosospensione di Gonzales. Il sindaco di Bari ha poi parlato della loro telefonata. Il sindaco ha capito male, ha detto Emiliano, aggiungendo di non essere autorizzato a rivelare il contenuto della telefonata, ma facendo comunque capire che aveva chiesto le dimissioni. L'ex magistrato, intervenuto poi sulla questione degli appalti Asle, ha detto, lo sappiamo che esiste un virus nei partiti che spinge a preoccuparsi dei propri affari, ma vigileremo senza guardare in faccia a nessuno. Rimaniamo a Brindisi per parlare della questione Ferrotel, l'immobile che deve necessariamente essere messo in sicurezza e per il quale il questore di Brindisi, Giuseppe Cucchiara, ha convocato il dirigente dell'ufficio di igiene del comune di Brindisi, i vigili urbani, la Asle, per un vertice nel quale affrontare la questione Ferrotel. Il questore di Brindisi, Giuseppe Cucchiara, ha incontrato questa mattina i rappresentanti dell'Asle, dell'ufficio igiene del comune di Brindisi e i vigili urbani, per affrontare la questione del Ferrotel in particolare, per fissare le modalità di sgombero della struttura, nonché la messa in sicurezza dell'immobile alla luce della sentenza con cui il Tribunale di Verona ha dichiarato il fallimento della società La Soglia Hotel Group SRL. L'ex ostello dei tranvieri è oggi ricovero abusivo per i senza tetto e teatro di episodi violenti, nonché di disordini, l'ultimo dei quali il lancio di un uomo del Sudan dalla finestra per una banale lite per un posto letto. L'edificio è completamente sprovvisto di luce, acqua e servizi, gli ospiti abusivi infatti vivono in condizioni igienico davvero precarie. Per i bisogni fisiologici i senza tetto utilizzano il cortile perimetrale, così come per depositare rifiuti, che il più delle volte, come potete vedere dalle immagini, vengono lanciati direttamente dalle finestre o dal terrazzo. Il ferrotel fu sgomberato già nel luglio del 2011, quando ad occuparlo era una famiglia di 14 bulgari. Gli ingressi furono murati, ma con il tempo gli occupanti hanno individuato nuove possibilità di accesso alla struttura. Una situazione dunque che ha spinto il questore di Brindisi ad intervenire immediatamente, per programmare lo sgombero ed altre eventuali soluzioni. E continuiamo a parlare della nostra questione dei senza tetto e della vicenda personale, ma che porta alla luce la gravità del problema emergenza abitativa a Brindisi, cioè la vicenda del pizzaiolo Silvano Fortunato. Ancora un servizio di Stefania Franciosa. Riteniamo inaccettabile che vi siano strutture comunali chiuse e non utilizzate, mentre uomini e donne nella nostra città passano le notti all'aperto. A dichiararlo è Riccardo Rossi di Brindisi Bene Comune, dopo la vicenda di Silvano Fortunato, un brindisino che dopo aver perso lavoro e casa passa le notti in stazione. Una situazione che contrasta con le migliaia di case spitte e vuote in questa città, dice Rossi, ed anche con strutture comunali chiuse che potrebbero ospitare i nostri concittadini più sfortunati, in particolare il riferimento è a locali ultimati e persino arredati con stanze da letto, bagno e cucina del centro antiviolenza situato nel quartiere Perrino. Ieri prendendo spunto dalla vicenda del nostro concittadino sfortunato Silvano Fortunato che è praticamente rimasto senza lavoro, senza casa e quindi dormendo in stazione addirittura ha anche preso una multa per non essere appunto, non avendo un biglietto di viaggio, non poteva sostare in stazione durante la notte, noi abbiamo interpellato l'assessore Rollo perché come potete vedere alle mie spalle c'è una struttura comunale che in realtà è vuota, al primo piano c'è un centro antiviolenza finanziato con i soldi dello Stato e quindi dei contribuenti arredato con camera da letto, bagno, cucina e che è in grado di ospitare circa una decina di persone, allora noi ci chiediamo come è possibile avere strutture comunali ultimate anche se dedicate ad altre motivazioni non utilizzate in questi casi di emergenza. Se questo centro non deve essere utilizzato come centro antiviolenza allora è bene che si cambi rapidamente ma proprio diciamo in pochi giorni la natura di questo centro e si possa utilizzare questo centro per dare delle risposte alla crescente emergenza abitativa, un'emergenza che ormai coinvolge decine di cittadini di Brindisi, non è questo il primo caso, non è l'unica persona che vive la notte all'aperto. Riteniamo intollerabile questa situazione, abbiamo chiesto quindi all'assessore Rollo di darci delle risposte, fino adesso non abbiamo ottenuto alcuna risposta e pensiamo invece che questa struttura debba essere utilizzata per un'emergenza temporanea. Dopodiché ci aspettiamo anche che l'amministrazione varia rapidamente un piano emergenza abitativa, si chiedono dei fondi, si possa mettere in piedi un piano per dare una risposta crescente al diffuso disagio sociale che sta esplodendo letteralmente in questa città. La STP di Brindisi nei giorni scorsi ha intensificato i controlli straordinari a bordo dei propri autobus per tenere sotto controllo il fenomeno dei viaggiatori che usano i mezzi pubblici ma senza pagare il biglietto oppure senza essere in possesso di un abbonamento. Si tratta di accertamenti che vengono effettuati sia sugli autobus della linea urbana ma anche su quelli dei collegamenti extraurbani. Il compito svolto dal personale della STP è evidenziato che il fenomeno dei cosiddetti portoghesi è presente anche sulle tratte per la zona industriale di Taranto, dove in questo caso i controlli sono stati effettuati con l'ausilio dei carabinieri appartenenti alla compagnia di Francavilla Fontana che hanno operato grazie anche ad un recente accordo che abbiamo proposto qualche settimana fa il servizio specifico, un accordo direttamente tra la STP e l'arma dei carabinieri per permettere all'utenza e al personale dell'STP di viaggiare in sicurezza. Siamo nell'imminenza delle festività natalizie, la maggior parte, anzitutto, tutte le amministrazioni locali sono impegnate dal punto di vista politico-amministrativo in un passaggio particolarmente delicato che è l'approvazione del bilancio di previsione. Ieri è stata la volta dell'assise comunale di Mesagne. Vediamo. Dopo otto ore di discussione il Consiglio comunale di Mesagne ha approvato ieri il bilancio di previsione, un momento importante dell'amministrazione Scoditti. Lo stesso sindaco aveva chiesto alle forze politiche di maggioranza e opposizione di votare il bilancio nonostante come è noto si sia già avviato una fase di verifica all'interno del centro-sinistra. 12 i voti favorevoli, 4 quelli contrari. Davvero abbiamo operato in condizioni drammatiche con questo cambio cosiddetto deferralismo fiscale in cui lo Stato dice comuni mantieniti per conto tuo, ma siccome ti devi mantenere per conto tuo, ma ho problemi, ti prendo anche soldi da te. Per cui noi ci troviamo con risorse in meno per 3 milioni e mezzo di euro, perché lo Stato se ne è preso praticamente 2,5 personali propri conti di tasse dei mesagnesi, come ha detto ogni comune d'Italia, e per cui oggi facciamo una manovra dolorosissima in cui ci vediamo costretti ad aumentare l'IMU e l'addizionale IRPEF, mantenere sostanzialmente invariata la TARSU proprio per venire incontro a questa drammatica congiuntura. E dal punto di vista politico ci saranno scossoni? Sul piano politico credo che ci sia la volontà di voler approvare il bilancio perché davvero si metterebbe il Comune di Mesagni in grave difficoltà, al di là poi di chi lo governa. Non c'è dubbio però che da domani si apre una fase di lettura politica di tutto ciò che è accaduto sicuramente dirimente. Non è la giustificazione delle problematiche di carattere nazionale perché un assessore e un'amministrazione non può navigare a vista ma deve programmare in anticipo, quindi si sarebbe potuto ampiamente nel periodo almeno estivo effettuare il bilancio di previsione 2013, oggi non possiamo più prevedere nulla, si può dire che stiamo chiudendo quasi un bilancio consuntivo, ahimè, è con gradissime difficoltà. Il Comune di Mesagni ha tantissime problematiche e sicuramente un'amministrazione ordinaria, cioè è come se noi fossimo commissariati, cioè la politica in questo senso non serve a nulla. Cosa avrebbe voluto fare di più l'amministrazione Scuditti? Avrebbe voluto fare quello per cui è chiamata, quando si candida un sindaco e un'amministrazione, la sua giunta a programmare in anticipo. Non c'è visione, non c'è programmazione, ma noi l'abbiamo detto dal primo giorno, quando hanno presentato le linee programmatiche, inconcludenti, inesistenti e questo è il risultato di tre anni e mezzo di nulla, non c'è uno straccio di programmazione, questo purtroppo è il risultato che paghiamo tutti noi cittadini sulla nostra pelle. Intanto l'assessore ai lavori pubblici Gino Vizzino ha lasciato ieri l'incarico, così come chiesto dalla UIL nazionale, come è noto Vizzino e il segretario provinciale della UIL agricoltori. Rimaniamo a Mesagne, proprio nell'aula consigliare che ieri è stata occupata dai lavoratori di due cooperative sociali appartenenti all'Adi, nel servizio ancora di Stefania Franciosa, le rassicurazioni agli stessi date dal sindaco Scuditti. Un gruppo di dipendenti delle cooperative sociali, Acca Parlante e Alba, che prestano servizio di assistenza domiciliare integrata nell'ambito territoriale Brindisi 4, hanno occupato ieri l'aula consigliare del comune di Mesagne per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. Noi oltre a dire le problematiche vogliamo anche che questi servizi vengano garantiti per il futuro, perché con le voci, con voci, certezze, dettagli, non sappiamo l'anno prossimo se questi servizi saranno confermati al 100%, ci saranno delle riduzioni serie. Intanto cosa vi aspettate, che tipo di impegno e soprattutto da parte di chi? Il sindaco di Mesagne ci ha assicurato dicendo che il comune di Mesagne dovrebbe approvare insieme al bilancio un fondo di 325 mila euro che dovrebbe andare di finanziamento all'ambito. I lavoratori sono comunque disposti a continuare la loro protesta se non si dovesse muovere qualcosa? Sì, dalle loro volontà hanno detto che non si muovono di qua finché non avranno delle certezze, perché basta. Non si può accettare altri rinvii, altre situazioni diverse della certezza. Ho assicurato l'impegno nostro come l'abbiamo assicurato in passato rispetto ai problemi dell'ambito che abbiamo avuto, circa le mancate rimesse regionali che erano state previste e che non sono più arrivate. Abbiamo fatto fronte, noi comune di Mesagne ci siamo fatti cari anche per gli altri comuni facendo un'anticipazione di cassa per poter saldare buona parte degli eredrati. Adesso in bilancio noi prevediamo un'ulteriore spesa che fa capo al comune di Mesagne e così come abbiamo invitato tutti gli altri comuni dell'ambito a farsi carico della propria quota di compartecipazione sulle spese. Noi dopo l'approvazione del bilancio già la parte nostra in prossimi giorni sarà accreditata dalle cooperative, quindi in buona parte, e le faremo opere di pressione anche verso gli altri comuni perché facciano la stessa cosa. Ed ora parliamo di imprenditoria femminile. L'innovazione veste rosa è il titolo di un premio al quale partecipano anche due aziende che fanno parte della Confesercenti di Bari. Vediamo. L'impresa in rosa è sempre esistita. Io ho portato avanti il comitato imprenditoria femminile per anni perché l'ho presieduto e siamo stati sempre molto attenti all'imprenditoria femminile ed ha dato i suoi ottimi risultati. Se si pensa che la Camera di Commercio in questo periodo di crisi in tutti i settori economici ha avuto un recesso di tante imprese al maschile, l'unico trend positivo di crescita è stato proprio l'imprenditoria femminile. In Puglia vantiamo tantissime aziende al femminile, parliamo di 14 mila imprese nella Camera di Commercio di Bari iscritte in rosa e quindi questo non può che essere una grande forza e un sostegno. Dobbiamo sempre sostenere le donne perché purtroppo la conciliazione dei tempi per noi donne è sempre un grosso problema per cui bisogna sostenerle in tutti i modi per andare avanti. Le cooperative le hanno create le donne che sono delle ottime organizzatrici e sanno guardare lontano, tanto è vero che in Camera di Commercio siamo rappresentati, quindi è anche vero che dal punto di vista imprenditoriale le cooperative sono quelle che negli ultimi anni hanno assunto, forse sono le uniche imprese che hanno assunto in Italia, proprio per questa capacità imprenditoriale di saper guardare oltre e di saper fare anche i sacrifici, perché ce lo dobbiamo anche dire. Quindi per noi questa manifestazione è soprattutto non solo premiare ma far conoscere, spingere i giovani a non aver paura di rischiare, a provare e la cooperazione è una forma societaria che mette insieme più persone e quindi il rischio viene condiviso, ma la comunicazione sull'impresa, sul fare femminile che può diventare impresa è basica e fondamentale ed è lo scopo e la mission del CIF, del Comitato Imprenditoria Femminile. Ci sono molte imprese, naturalmente tutte al femminile, abbiamo presentato le imprese più innovative naturalmente dal punto di vista dell'innovazione, soprattutto in Puglia e abbiamo voluto premiare una delle aziende, riteniamo la più meritevole per quanto riguarda l'innovazione per quanto riguarda i wedding events in Puglia. L'azienda è un'azienda molto importante che penso che possa avere una importanza anche e soprattutto a livello di business per quanto riguarda il nostro territorio, anche perché dà forza al lavoro ed è una cosa che ci serve, penso, nella nostra terra. Feder Alberghi Brindisi quest'anno ha deciso di tenere a Fasano la propria assemblea provinciale, l'ha tenuta presso la sala consigliare, la sala di rappresentanza del comune, evento che è stato seguito dalle nostre telecamere. Il servizio. Feder Alberghi tiene la sua assemblea proprio qui a Fasano e non credo che questo sia casuale, Fasano ormai è diventato dal punto di vista turistico molto molto appetibile, molto molto rappresentativo, per cui credo che sia un fatto naturale che questo rapporto che si è instaurato ormai da tempo con la Feder Alberghi vada avanti e si perfezioni sempre di più con occasioni come questa in cui saranno anche primiati due ragazzi con una borsa di studio per aver preparato dei lavori proprio interessanti ai fini turistici. Abbiamo scelto Fasano in un rinnovato spirito di collaborazione con gli enti locali, quindi è fondamentale una cittadina che negli ultimi tempi sta manifestando con i dati una certa performance. L'assemblea non è altro che il risultato di un anno di attività proprio associativa in cui illustreremo quelli che sono stati un po' gli obiettivi raggiunti, le varie tappe di questi 12 mesi che non ultimo si concludono con questa relazione finale. L'aspetto fondamentale che vogliamo mettere al centro di questo incontro sono anche i numeri, quindi sia qualitativi che quantitativi. C'è sicuramente un problema di rappresentanza del territorio che in qualche maniera bisogna stimolare e portare a considerazione dei tavoli preposti a questo, quindi in particolare l'assessorato al turismo e quant'altro. Seppur con pubblica promozione è cominciato un percorso sicuramente nuovo, migliorativo rispetto al passato, bisogna sempre evidenziare le criticità dei singoli territori. L'occasione è anche quella di confronto tra le tematiche appunto tra i vari associati per tirar fuori un piano programmatico per affrontare il meglio il 2014 e il 2015. Venezia in questi territori ha lasciato numerose tracce, quindi è giusto che Venezia si leghi a questi territori, per cui in futuro potremo sicuramente fare della promozione comune, potremo anche fare delle iniziative che possano coinvolgere entrambe le associazioni, entrambe le realtà territoriali. Quest'oggi portiamo una nostra esperienza che è l'esperienza di interculturalità e cioè del miglioramento dell'accoglienza di un determinato tipo di turisti, quelli che provengono da paesi cosiddetti esotici, paesi che sono poco conosciuti e che sono portatori di una cultura, di religioni completamente differenti alle nostre. E quindi un miglioramento della qualità dell'accoglienza dovuto al fatto che ci si può attrezzare anche per venire incontro alle esigenze di questi nuovi turisti. Oggi il 4 dicembre, come ogni anno, ricorre la festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e tutte le sedi territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco festeggiano la loro patrona con iniziative molto sobrie. Ad Ostuni, sede di un importante distaccamento, la festa sarà vissuta alle 18 nel Santuario Santi Medici, Cosma e Damiano, con la celebrazione di una santa messa presieduta dal parroco Don Paolo Zofra, alla presenza delle autorità civili militari e alle associazioni combattentistiche d'arma. Alla messa partecipa il sindaco di Ostuni Tanzarella e i sindaci dei comuni di Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino e Fasano, perché rientrano nella competenza del distaccamento di Ostuni, che è guidata dal nuovo responsabile Cosimo Camarda. Ancora appuntamenti alle 18 sempre di questa sera presso la sede dell'associazione Brindisi Cuore, presso l'ex ospedale di Somma a Brindisi in piazza di Somma, si terrà l'incontro mensile di educazione alla salute del mercoledì di Brindisi Cuore, tra medici, specialisti e coloro che vorranno parteciparvi. Appuntamento che mira a sensibilizzare la popolazione alla lotta contro le malattie cardiovascolari e a diffondere messaggi ed informazioni sul corretto stile di vita. L'argomento di questa sera è scompenso cardiaco, diagnosi e terapia, relaziona la dottoressa Alessandra De Castro, che è dirigente medico dell'unità operativa di cardiologia all'ospedale Perrino di Brindisi. Ancora appuntamenti alle 19 di questa sera presso la biblioteca comunale Trinchera Senior di Ostuni. Lo scrittore Paolo Di Paolo sarà ospite nell'auditorium per presentare il suo ultimo libro, Mandami tanta vita, edito da Feltrinelli. È un romanzo con il quale è entrato nella cinquina finalista della Premio Strega 2013. L'iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con la Bottega del Libro e il Casbar Caffè vedrà gli interventi del Sindaco Tanzarella, dell'Avvocato Giussi Santomanco, del Presidio del Libro e dell'autore Paolo Di Paolo. Chiudiamo qui il giornale, non prima di avervi ringraziato per la cortese e attenzione. Buon proseguimento con gli altri programmi di TRCV. Grazie a tutti.